Tutto pronto per la settima edizione dell'Eurosoul Festival. Si è svolta questa mattina nella sala arancio dell'Associazione Jump a Satriano Marina la conferenza stampa per presentare la settima edizione dell'Eurosoul Festival. Presente il gruppo dei sognatori con il regista Tonino Pittelli. Anche i sognatori a questo evento dell'Associazione Jump? Sì, ci siamo con grande piacere per dare un contributo a questa manifestazione che comunque negli anni è diventata sempre più importante. Peraltro devo dire che tanti anni fa abbiamo iniziato con Pietro Curatola siamo stati forse i primi a dare un contributo dal punto di vista di animazione a questa festa e lo faremo con grande piacere anche il giorno 9 pomeriggio. Ci può dire qualcosa a scoprire quello che farete? Beh, qualche difficoltà l'abbiamo avuto per via della lingua. Io so parlare l'italiano e ho dialetto. Quindi voglio dire, avendo poi ospiti inglesi, qualche difficoltà l'abbiamo avuto però abbiamo scelto dei quadretti principalmente mimati e qualche scenetta facilmente compensibile di quello che facciamo. Quindi portiamo un po' di Calabria, portiamo un po' di Europa e qualche risata come al solito per trascorrere un pomeriggio insieme. Dove si svolgerà l'evento? Allora, è previsto a Lucchiano, è questo quartiere di soverato superiore siccome le previsioni non sono granché stiamo cercando di poterla fare dentro in una sala offerta da un nostro concittadino. Vicino a lei chi? Eh beh, c'è Rosanna Corradino ormai, magari se vuole parlare vuole dire qualcosa anche lei e così Rosanna Baselisi la zona è piccola e quindi dobbiamo essere anche noi pochi. Si riparte con questa settima edizione. Esatto, il Ulusol Festival arriva alla sua settima edizione siamo molto contenti è importante da dire se l'anno scorso era l'anno europeo dei giovani abbiamo celebrato i dieci anni di Jump quest'anno per l'Europa è l'anno europeo delle competenze e noi oltre al 9 maggio in cui celebriamo la festa dell'Europa grazie a questo festival ci teniamo a dare il giusto merito alle competenze anche che si uniscono per mettere insieme questa manifestazione e quindi anzitutto le competenze del fare rete Jump da sola non riuscirebbe mai a proporre una due giorni come quest'anno solitamente il festival ha preso anche delle settimane intere ed è stato itinerante per la prima volta che quest'anno ci concentreremo staremo solo a Soverato ma non riuscirebbe Jump da sola a realizzare questa manifestazione ci sono tante organizzazioni a partire da quelle sportive che ci aiuteranno a riuscire a concretizzare la prima giornata nel pomeriggio con la Schumann Cup ma anche la compagnia dei sognatori che quest'anno chiuderà il festival a mio modo personale di vedere in una maniera unica perché ci sarà un evento che toccherà sicuramente le labbra di tutti i partecipanti nel ridere ma penso veramente l'anima e il cuore di tutti perché ci sono dei momenti che io ho avuto l'onore di vedere un po' in anteprima che saranno toccanti parte lunedì 8 maggio dal corso Umberto I ci sarà il punto di partenza del festival faremo questo City Game questo gioco di città per le strade di Soverato con 30 ospiti internazionali Erasmus provenienti da Finlandia, Germania, Serbia, Austria, Polonia non me le ricordo tutte ma sono almeno 12-13 stati membri coinvolti questa volta poi ci sarà nel pomeriggio questa ormai celeberrima settima edizione di Schumann Cup che è questo gioco ludico didattico che permetterà ai piccoli partecipanti ai piccoli campioni di sconvolgere il risultato a termine della partita di calcio attraverso del quiz dedicati alle tematiche europee il giorno dopo, martedì 9 maggio saremo nelle scuole raccontando ai più piccoli il mito di Zeus e d'Europa e saremo in questa sede nel quartiere generale di Jump a intrattenere i 30 docenti internazionali attraverso quello che facciamo quotidianamente i nostri corsi Erasmus quindi tutto lo staff, i trainer, i formatori i facilitatori cercheranno di affrontare con una metodologia non formale tutte le tematiche previste dai corsi di questa settimana e nel pomeriggio chiuderemo in bellezza a Lucchiano dopo la visita al Gaggini con questi ospiti internazionali e con chi si vorrà unire perché la bellezza del festival è che apre tutte le attività di Jump a tutti al contesto anche locale e chiuderemo a Lucchiano con i sognatori che ci accompagneranno alla chiusura del festival